ciao allora benvenuti nel video dei prodotti non ci siamo proprio del periodo perché ho trovato tanti prodotti da bocciare assolutamente allora il primo che vi mostro ve lo mostro se lo trovo eccolo allora è questo è la crema della collaginil e dice di essere repalp 3d definizione viso rimodellante allora io avevo dei campioni 2 ma ho segnato il prezzo e tenetevi forte perché lo cerco 50 ml sul loro listino vengono 52 euro e 80 mentre su amazon ho trovato anche a 35 euro allora intanto questa crema che cerco di mostrarvela eccola qui allora è una crema che io ho applicato solamente alla sera textura abbastanza morbida si stende bene sul viso assorbe velocemente non mi lascia la pelle unta ma non ho trovato nessun effetto miracoloso due settimane d'applicazione perché basta poco prodotto quindi un campioncino a settimana ha una bella texture va bene adatta anche alla mia pelle mista idrata ma niente proprio di più e credo che per un prezzo così elevato questa non è neanche una crema anti age è una crema idratante e quindi per questo non ho trovato nessuno nessun segno di miglioramento se non quello idratante ma mi sembra davvero poco e quindi questa assolutamente no non ci siamo proprio del periodo e questo devo dire che mi ha davvero deluso è questa crema mani della sien quindi il marchio che si trova da lidl allora questa è la crema mani madame glamour confezione da 75 ml costa 99 centesimi dice di essere una crema mani lusso per le mani con burro di karité e olio d'argan questa qui è assolutamente non mi è piaciuta allora è super profumata esatto molto 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 profumata ma ha un potere idratante nullo cioè io l'applico è vero che assorbe molto velocemente ma è come se non mettessi niente sulle mani dopo sento il bisogno subito di andare a riapplicare una crema idratante perché le sento come se non avessi messo niente e quindi no oltretutto l'inci ha tanti prodotti tanti punti che non vanno bene quindi anche l'inci negativo ci sono tante creme mani della sien che sto provando hanno un buon inci costano poco e sono valide questo assolutamente evitiamola perché meglio allora ultimo prodotto non ci siamo proprio per questo periodo sarà destino ma è ancora un prodotto della sien allora questo è il shiny pearl balsamo labbra che è questo qui che ho comunque sia completamente finito e quindi lo boccio ma finitissimo comunque sia 4,8 grammi costa 0,89 e l'ho voluto provare perché il balsamo labbra classico mi piace da impazzire questa è l'altra versione ci sono solo due versioni nel mio negozio quindi ho voluto provare anche l'altra versione e no allora è perlato quindi immaginavo che poteva non piacermi però è un perlato che tende a rendere le labbra davvero molto chiare e sembra che siano screpolate anche se invece non lo sono poter idratante quasi nullo perché lo applico dopo neanche mezz'ora devo andarlo a riapplicare quindi non si sente sulle labbra e se sono molto screpolate assolutamente no e non mi piace non mi è piaciuto assolutamente quindi se l'idol da me ha solo due versioni io continuerò a provare solo una versione perché questa assolutamente non mi è piaciuta per niente quindi allora questo era tutto il video dei non ci siamo proprio del periodo tutti i prodotti che quindi a me non sono piaciuti affatto fatemi sapere se voi avete provato qualcuno di questi prodotti a differenza di me vi siete trovate bene perché no comunque io vi ricordo di seguirmi anche su instagram perché lì faccio le recensioni delle first impression sulle stories quindi prodotti che ho e proprio una volta per due o un piccolo campioncino in questo caso non faccio il video ma solo un video first impression e quindi seguitemi anche lì così non perdete proprio nessuna recensione come sempre io spero di esservi stata utile se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao